E buongiorno, siamo con Alessandra Graziosi, coordinatrice per l'Italia di Fondazione Scolas Occurrentes. Alessandra, congratulazioni per il premio Donne Innovazione all'interno di Nostalgia di Futuro 2021. Cos'è per te News Media for Good? Grazie innanzitutto per questo riconoscimento. Secondo me è speranza. Quello che è un po' mancato a tutti noi a partire da quel famoso 9 marzo 2020, il primo giorno del lockdown in Italia, è proprio un po' quello, la speranza. Quindi forse anche speranza e futuro, questo mix. Fondazione Scolas Occurrentes, un progetto nato per iniziativa del Santo Padre. Come può in futuro abilitare News Media for Good? Sì, quello che sempre parla Papa Francesco è il patto educativo globale. Quindi che tutti dobbiamo far parte di questa grande rete per l'educazione. Ecco, quello che io credo che Scolas Occurrentes insieme a voi possa entrare appunto in questa grande rete di speranza, per costruire la speranza. Grazie. Grazie.